Ha preso il via oggi e proseguirà fino al 14 aprile all'ex manifattura Tabacchi di Cagliari la seconda edizione della manifestazione Muros de Arte. Un evento promosso dalla cooperativa sociale Alea con il contributo della regione Sardegna pensato per analizzare ed approfondire la tematica culturale identitaria dei vari movimenti del muralismo in Sardegna. Quello del muralismo è un fenomeno ormai molto esteso nell'isola che si rivolge principalmente al segmento del turismo culturale. e mira a valorizzare e promuovere una forma espressiva che da mezzo di protesta e denuncia è diventata comunicazione sociale e narrazione del vissuto. L'obiettivo di Muros de Arte attraverso talk, proiezioni e elaboratori è quello di coinvolgere attraverso numerosi dibattiti le diverse anime del muralismo quello storico tradizionale, quello contemporaneo e quello che si delinea nel futuro.